Rilascio di polveri e liquidi cancerogeni nell'acqua e nel terreno, così sono scattati i sigilli. Nel mirino degli inquirenti un impianto della Valtiberina specializzato nella produzione di sottofondi stradali, conglomerati edilizi e recupero di rifiuti speciali. Questa mattina sono stati i carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della procura di Arezzo, con il supporto della compagnia e della stazione carabinieri forestale di Sansepolcro, a dare esecuzione ad un sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Arezzo. In particolare, la misura adottata prevede la chiusura e contestualmente il sequestro dell'impianto, dei suoi beni strumentali e dell'intera area golenale del fiume Tever, interessata dal ciclo produttivo aziendale della società in questione. Le indagini partite nel settembre 2021 hanno rilevato che l'impianto non sarebbe stato gestito come invece avrebbe dovuto essere gestito, oltre ad una sfilza di violazioni ambientali. I reati ipotizzati, infatti, vanno dall'illecita gestione di rifiuti speciali all'ampliamento illecito del ciclo produttivo aziendale, dalla violazione di prescrizioni ambientali allo smaltimento sul suolo e sulle acque superficiali di rifiuti liquidi pericolosi di tipo cancerogeno, dalle emissioni diffuse ed incontrollate in atmosfera, al cambio di destinazione d'uso del suolo e al getto pericoloso di polveri anch'esse cancerogene.